Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok e il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, primo video di questo format sui fumetti dedicato a un personaggio della DC e dato il recente The Batman non potevo non dedicarlo al Cavaliero Scuro di Gotham. E dato che per quanto riguarda Batman c'è una balanga di roba, ma veramente tantissima, forse anche più di Spider-Man e vale la stessa premessa che avevo fatto all'epoca, ovvero che sicuramente avrò lasciato fuori qualcosa che per voi è importantissima ma anche in questo caso ho cercato di bilanciare con storie che secondo me hanno ispirato la realizzazione del film con storie che secondo me sono assolutamente da recuperare più altra roba che trovate disponibile online sia su Amazon che sul sito Panini perché magari hanno ristampato, perché magari sono ancora disponibili e che comunque vi consiglio di recuperare. Tra l'altro prima di iniziare devo fare una doverosa premessa ovvero che il mondo DC è molto più approcciabile secondo me per un nuovo lettore rispetto alla Marvel per il semplice fatto che anche per quanto riguarda The Batman, vi farò vedere un sacco di roba, ci sono tantissime storie che sono stand alone, sono one shot, sono elseworld, sono universi alternativi, non dovete per forza andarvi a recuperare 800 numeri dalla nascita del personaggio fino appunto al momento in cui state prendendo il volume. Molte cose potete prenderle tranquillamente e leggerle senza aver letto nient'altro il che secondo me è un grande pregio per quanto riguarda il mondo DC o forse un difetto dipende da che lato la vediamo, nel senso che a me piace che la Marvel tenga e continui questa continuity appunto che è partita negli anni 60-70 con i personaggi e si avvalda tuttora adesso con le nuove storie. Comunque direi di cominciare, direi di cominciare con Batman anno 1, avrei voluto la nuova edizione di Panini ma è introvabile quindi vi dovete accontentare di questa qui dedicola, anno 1 è forse una delle storie più famose ed importanti su Batman, scritta da Frank Miller con i disegni di Mazzucchelli e qui abbiamo il primo anno di attività di Bruce, di Batman, a Gotham. Abbiamo appunto una Gotham nel pieno della corruzione e noi la andiamo ad esplorare e a conoscere da un lato con gli occhi di Bruce Wayne che inizia il suo viaggio nell'oscurità e che lo porta a diventare appunto il Cavaliere Oscuro di Gotham ma al tempo stesso la vediamo tramite gli occhi di Gordon. Anche lui è arrivato, all'inizio del fumetto, arrivano entrambi nello stesso momento a Gotham e lui si trova in una città dove la corruzione dilaga e va a toccare tutti quanti e quindi si trova a essere l'unica nota fuori dal coro che non si piega alla corruzione. Veramente un volume ed una storia incredibile, ha ispirato molto il film di Matt Reeves soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Catwoman, sia per quanto riguarda il costume sia l'aspetto fisico, qui Selina ha i capelli corti come c'era appunto la Kravitz nel film di Matt Reeves lei vive tra l'altro con una coinquilina, anche qui è legata ad attività poco legali all'inizio e anche qui lei diventa Catwoman per la prima volta. È un Batman che fallisce, così come è un Batman che fallisce anche quello di Pattinson ho visto tantissimi, dopo aver visto il film dire sì però è un po' brocco, prende schiaffi, sbaglia eccetera e ragazzi, primi anni di attività di Batman, qui è la prima volta che esce senza costume gli sparano, si schianta con la macchina, lo pigliano a calci tre scappati di casa sulle scale è giusto che sia così come è giusto che sia così anche quello di Robert Pattinson ok quello di Robert Pattinson sarebbe più anno due, ovvero il secondo anno di attività di Batman dato che parte che conosce già Gordon eccetera qui invece andiamo a vedere tutto come comincia storia assolutamente imperdibile che dovete recuperare e dovete tenere in libreria se siete fan o se volete leggere qualcosa su Batman e dato che abbiamo citato il buon Frank Miller non potevo non citarvi e farvi vedere subito dopo Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora storie che sono delle pietre miliari per quanto riguarda il personaggio di Batman abbiamo appunto Il ritorno di Batman, abbiamo un Bruce Wayne che all'età di 70 anni dieci anni dopo aver indossato il costume del pipistrello decide di infrangere la promessa che aveva fatto a Jason Todd e rivestire i panni di Batman non potendo continuare a girarsi dall'altra parte di fronte a una corruzione che continua a esistere all'interno di Gotham la caratteristica di Gotham è che lei nonostante gli sforzi di Batman, di Robin, di Nightwing e tutti gli altri rimane purtroppo malata e non guarisce mai appunto dalla corruzione e dal crimine storia che non vi sto nemmeno raccontare perché è veramente qualcosa di fantastico abbiamo il nuovo Robin, abbiamo il ritorno di Joker, abbiamo Clark, abbiamo Superman il famoso questo è una tavola che penso che abbiate visto tutti almeno una volta nella vita qui avviene il famoso scontro tra Batman e Superman da cui si sono ispirati anche nel film Batman v Superman dove c'è lui che indossa l'armatura e si scontra contro il nostro Clark Kent storia fantastica, il ritorno del Cavaliere Oscuro assolutamente da recuperare così come dovete recuperarvi anche il sequel che è il Cavaliere Oscuro colpisce ancora anche qui ragazzi tavole fantastiche tra l'altro hanno anche fatto il Cavaliere Oscuro colpisce ancora 3 non lo so, penso che in italiano l'abbiano lasciato The Dark Knight 3 però quello non l'ho letto, vorrei recuperarlo sto aspettando che facciano un formato absolute dato che avevo i vecchi primi volumi in questo formato che fa apprezzare appieno le tavole e poi lo recupererò comunque ragazzi il ritorno del Cavaliere Oscuro e il Cavaliere Oscuro colpisce ancora e anche The Dark Knight 3 li trovate entrambi li stampati noi da panini ve li lascio linkati qui sotto in descrizione dovete assolutamente prenderli insieme a Dando Uno passiamo poi al fumetto che secondo me più ha contribuito alla creazione di The Batman quello secondo me da cui si è ispirato di più Matt Reeves per realizzare il suo film ovvero Batman il lungo Halloween scritto da Geoff Leib e disegnato da Tim Sale tra l'altro la stessa coppia che si occupata di Spider-Man Blue uno dei miei fumetti di Spider-Man preferiti di sempre che qui mi porta a una delle mie storie preferite di sempre su Batman si è ispirato tantissimo Matt Reeves perché anche questo volume è una continua caccia al serial killer è un thriller incredibile solo che a differenza del film dove è stato messo l'enigmista secondo me che era più mainstream e più conosciuto al grande pubblico qui abbiamo Holiday uno spietato serial killer che comincia una lunga serie di crimini che compierà in tutte le varie festività tra cui per esempio San Valentino la Befana la festa del papà e comincerà con il suo primo delitto la notte di Halloween infatti tutto il suo lungo periodo in cui ha ucciso tantissimi rappresentanti anche altolocati di Gotham tra cui giudici, corrotti eccetera viene chiamato appunto il lungo Halloween storia pazzesca vi faccio vedere anche disegni incredibili qui c'è veramente di tutto c'è Catwoman c'è Poisonavi c'è Joker c'è l'enigmista c'è la corruzione tutta la parte della corruzione con Maroni Falcone qui viene trattata benissimo infatti per questo dico che sono ispirati un sacco dal lungo Halloween tanto è vero che la scena che racconta Falcone all'interno del film ovvero che lui viene salvato dal padre di Bruce da Thomas che lo opera sul suo tavolo da biliardo mentre il piccolo Bruce assiste a tutta la scena dalle scale qui avviene e ci viene disegnata ce la fanno vedere storia incredibile e ovviamente se vi ricoprate il lungo Halloween non potete non prendervi anche Vittoria Oscura sempre di Leo e Bessail che è il sequel diretto di Lungo Halloween tra l'altro vi voglio far notare come i due volumi siano esattamente dello stesso spessore e Vittoria Oscura va a proseguire da dove si era fermato il lungo Halloween che ha comunque una conclusione non ha un finale aperto ma qui spunta un nuovo serial killer legato a quello che è successo appunto nel volume precedente anche perché il volume precedente vede non solo Batman alla caccia di Holiday ma anche Gordon e Harvey Dent che sono sviluppati e scritti in maniera incredibile se vi ricoprate il lungo Halloween e Vittoria Oscura a sto punto fate tombola e portatevi anche a casa Cavaliere Maledetto sempre di Leo e Bessail che sono tre storie che la coppia ha scritto e che ha portato poi alla realizzazione del lungo Halloween loro hanno prima realizzato queste tre storie che trovate qua tra cui una che è una rivisitazione del canto di Natale di Dickens e hanno poi deciso di scrivere di scrivere il lungo Halloween e a questo punto recuperatevi anche Catwoman Vacanze Romane sempre di Leo e Bessail che va a continuare e sviluppare il personaggio di Catwoman dopo la rivelazione che avviene sul suo personaggio alla fine di Vittoria Oscura tutto questo è praticamente tutto il ciclo di Leo e Bessail che dovete recuperarvi infatti spero che Panini faccia un cartonato di vacanze romane così ce li ho tutti e quattro dello stesso formato della stessa misura andiamo avanti con una delle run che ho amato su Batman che è Batman di Grant Morrison abbiamo due begli omnibus volume 1 e volume 2 devo uscire anche il volume 3 ragazzi Morrison è un personaggio particolare c'è a chi piace e a chi non piace soprattutto perché lui a volte scrive delle cose che secondo me capisce solo lui o che si va a complicare troppo e magari risolve anche un pochino così a me Morrison piace veramente un sacco quando non si va a perdere in roba super complicata tira fuori dei capolavori incredibili come tutto il suo ciclo su Batman questo ragazzi è una bomba incredibile a parte i disegni fantastici e magnifici ma in guardatevi sta tavola scusate l'ho aperta so che metterò i video come al solito in superimpressione ma volevo farvela vedere perché è qualcosa di incredibile tutta la run di Morrison ragazzi mette in scena alcune delle cose più belle di sempre su Batman avvengono alcuni fatti importantissimi sulla vita del personaggio che esistono e vivono ancora adesso tra cui l'arrivo di Damian il figlio di Batman di Bruce Wayne e Talia al Ghul che diventerà poi il nuovo il nuovo Robin abbiamo il guanto nero che prima della corte dei Goofy ha tentato in tutti i modi di uccidere il pipistrello abbiamo Batman Rip il ritorno di Ra's al Ghul veramente storie magnifiche recuperatevelo tutto sono due begli omnibus deve uscire anche il terzo ma vi assicuro che ne vale ampiamente la pena anche i disegni sono sono veramente magnifici guardate che bello buon Damian nei panni di Robin lui cattivissimo tra l'altro le prime volte ammazza tutti senza problemi ci sono gli altri Batman veramente recuperatevelo perché Morrison qui ha fatto un lavoro incredibile andiamo avanti con una stampa una ristampa recente ovvero il bellissimo gofanetto di Terra 1 che all'interno contiene tre volumi Terra 1 è un universo alternativo rispetto al classico dove avvengono per esempio gli avvenimenti di Morrison e in sostanza questo è un Elseworld dove viene rinarrato nuovamente le origini di Batman i disegni sono magnifici e questo è un universo alternativo dove in sostanza vi beccate le origini di Batman lo scontro con due nemici importanti che non vi voglio rivelare ed è un bel volume tra l'altro qua i personaggi sono cattivissimi ragazzi è cattivo Alfred perché lui tipo era un ex berretto verde cattivissimo che non approva assolutamente nulla di quanto sta facendo Bruce Wayne inizialmente lo addestra ma loro si menano si menano durissimo c'è un serial killer mascherato che violenta sgozza e uccide una valanga di gente è cattivissimo è violentissimo ed è secondo me assolutamente da recuperare tant'è vero che arrivato alla fine del volume 3 io di Terra 1 avevo letto solo i primi due ne ho approfittato di questo cofanetto per rilegermi tutto e leggere il volume 3 che mi mancava alla fine del volume 3 succede una cosa che non mi vorrei stare a rivelare che mi ha lasciato un po' la mare in bocca ma per il semplice fatto che vorrei leggere qualcos'altro su Terra 1 vorrei che avessero proseguito con le storie perché secondo me questa è un'altra versione di Batman che però secondo me molti di voi apprezzeranno appieno soprattutto per la violenza per il realismo e per il fatto che comunque vi beccate con tre volumi le origini di Batman lo sviluppo del personaggio e un sacco di cose molto interessanti poi andiamo avanti e abbiamo un volume anche questo relativamente fresco stampato da Panini che è Batman Ego e altre storie scritte da Darwin Cook genio incredibile e ragazzi a parte i disegni le tavole fantastiche guardate che bomba questo è un altro volume che è stato usato secondo me per fare per fare The Batman abbiamo una prima storia dove Bruce Wayne si deve scontrare con Batman con l'ideale del Cavagliere Oscuro poi abbiamo diverse altre storie abbiamo questa qui di Batman Black and White completamente in bianco e nero abbiamo una storia meravigliosa su Catwoman storia veramente fantastica devo dire che per quanto sia stata bella Batman Ego che è la prima storia che trovate qui quella di Catwoman forse è ancora più bella anche qua abbiamo una Catwoman molto simile a quella del a quella del film questo è un bel volumone tra l'altro anche c'è una storia un pochino bambinesca ma estremamente divertente con Harley Quinn alla fine bel volumone vi recuperate un bel po' di roba questo da prendere e mettere in libreria andiamo avanti perché qua abbiamo Batman Ash non potevano mettere Batman Ash con il buon Jimmy Lee e disegni e l'ormai noto Geoff Loeb che scrive le storie devo dire che Loeb è uno dei miei preferiti scrittori di sempre in ogni campo sia nella DC che in in Marvel il disegno di Jimmy Lee qua forse ha i suoi massimi storici anche questa storia molto molto interessante e particolare arriva Ash questo personaggio misterioso che sembra essere legato al passato di non solo Batman ma Bruce Wayne comunque abbiamo anche Nightwing abbiamo Robin abbiamo Antress abbiamo Oracolo abbiamo un sacco di personaggi abbiamo anche tra l'altro il momento in cui Batman rivela Selina di essere Batman e quindi inizia la relazione 3-2 ragazzi non voglio dirvi tantissimo perché soprattutto per quanto riguarda Batman sono tutte storie di caccia a personaggi misteriosi a criminali e non voglio svelarvi più di tanto per non togliervi appunto quel gusto che solo i thriller scritti fatti bene vi sanno dare Batman Ash assolutamente da recuperare passiamo poi a Batman cos'è successo al Cavagliere Oscuro disegnato da Andy Kubert anche lui bravissimo tra l'altro lui ha disegnato un sacco anche Wolverine tutto Wolverine l'origine l'ha fatto lui è scritto da Gaiman e tutto quello che scrive Gaiman andrebbe preso e comprato di base anche questo è un Hell's Word ma è una storia meravigliosa anche questa è una delle mie preferite di sempre si apre con la morte di Batman nelle prime pagine scopriamo che Batman è morto e vediamo come è stato ucciso raccontato però da diversi personaggi ognuno si presenta di fronte alla tomba e al cadavere di Batman e inizia a raccontare la sua storia molto romanzata tra cui fantastica e famosa quella di Alfred che lui dice che ha creato il Joker essendo lui stesso Joker e tutti gli altri criminali per dare uno stimolo uno stimolo a Bruce per farlo continuare a combattere farlo diventare Batman ed in più tutto questo viene anche visto dallo spirito di Batman stesso a cavallo tra la vita e la morte pronto ormai ad affrontare il suo destino riconciliandosi col passato storia ragazzi veramente incredibile andiamo poi avanti con Batman Noel di Bermejo che anche in questo caso è una rappresentazione del canto di Natale di Dickens con protagonista Batman per me io ragazzi fa delle tavole assurde sono delle opere d'arte non sono non sono dei fumetti ed appunto riscrive e riadatta il canto di Natale combatte un protagonista riscrivendo anche la questione degli spiriti di Natale passato presente il futuro ci mette dentro diversi personaggi ci mette dentro Catwoman abbiamo abbiamo Superman tra l'altro guardate come fa questo accostamento di colori freddi con i colori caldi del nostro Clark Kent abbiamo Joker tra l'altro il Joker con lo stesso stile del suo Joker ragazzi storia molto bella tra l'altro anche il finale è particolare non è così scontato come potete pensare quindi Batman Noel assolutamente da recuperare passiamo poi a Batman Cavaliere Bianco venivo già ampiamente parlato nei miei fumetti preferiti nel 2021 anche qua è un Elseworld un universo alternativo rispetto a quello classico e anche qua ragazzi storia incredibile sia come sceneggiatura che come disegni Murphy fa un lavoro magnifico ed è un mondo in cui Joker è guarito della follia è tornato ad essere Jack Napierre si candida a sindaco della città e Batman viene perseguito dalla legge per tutto quello fatto nel corso di suoni di attività sono tre volumi abbiamo Batman Cavaliere Bianco poi La Maledizione del Cavaliere Bianco che tra l'altro mi è piaciuto anche quasi più del primo volume perché ha una storia pazzesca ragazzi e poi ripeto Murphy ha i disegni qualcosa di allucinante e poi abbiamo anche il volumetto spin off sempre sul Cavaliere Bianco con protagonista Harley Quinn tra l'altro deve uscire anche quello sempre sul Cavaliere Bianco di Batman Beyond e io sono con un hype veramente alle stelle recuperatevi assolutamente tutti e tre i volumi perché vale ampiamente la spesa e infine abbiamo il grande libro di Batman tutti i volumi della serie il grande libro di per quanto riguarda la DC c'è sia di Superman che di Wonder Woman eccetera sono in sostanza la parte DC dei volumi Marvel io sono noi siamo ovvero sono una raccolta di storie qua sono 20 storie leggendarie su Batman tra cui le origini la Bat famiglia della Silver Age eccetera un po' di storie che potete prendere e leggere se volete leggere qualcosa un po' bariopinta sia vecchia che recente su Batman i volumi il grande libro di sono quelli che dovete recuperare e infine non potevo non fare un video sicuramente su Batman senza consigliarvi qualcosa che ha come protagonista Joker perché so che me lo sareste poi andato a chiedere recentemente è uscito Batman 3 Joker che mi è piaciuto un sacco veramente tanto ho seguito più o meno il fatto che sarebbero spuntati fuori 3 Joker da quando l'annunciarono qui fa vedere appunto che ci sono 3 Joker differenti che sembra abbiano operato negli ultimi anni a Gotham alternandosi tra l'altro le tavole sono fantastiche la parte iniziale è qualcosa di stupenda non mi voglio dire cosa succede ma per come è stata impostata è veramente qualcosa di meraviglioso e appunto abbiamo Cappuccio Rosso Batgirl e Batman che si trovano costretti ad affrontare questa tripla minaccia del pagliaccio del crimine di Gotham volume che mi è piaciuto un sacco quindi vi consiglio di prenderlo subito poi abbiamo Batman Arkham Asylum non ha proprio come protagonista Joker però è una delle storie più importanti su Batman per quanto riguarda Arkham Asylum scritta da Morrison che forse qui si lascia un po' andare alle sue elucubrazioni un pochino folli le tavole sono magnifiche ammetto che a volte non aiutano perché sono un po' incasinate forse per un lettore alle prime armi sul personaggio di Batman ma la storia è veramente figa vi racconta le origini dell'Arkham Asylum del suo creatore e come l'hanno portato alla follia anche lui veramente storia famosissima su Batman immagino che mi auguro che la conosciate già prima che ve la faccio vedere in questo video e infine abbiamo Joker di Azzarello sempre insegnata da Bermeglio anche qui come vi dicevo le tavole sono oddio no qua c'è Arlequin con le puppe di fuori non posso farvelo vedere tavole stupende e anche questa è una bella storia su Joker con i disegni di Bermeglio c'è Arlequin un Joker bello violento che ammazza senza problemi recuperatevelo ultimissimo ma assolutamente non in ordine di importanza Batman The Killing Joke ragazzi cosa dire su questa storia una delle storie più belle di sempre su Batman Alan Moore che quando tocca qualcosa a tema fumettistico sforna dei capolavori incredibili qui Joker è spietatissimo nei confronti di Barbara nei confronti di Gordon c'è la famosa scena dove Joker spara Barbara Gordon e la riduce in sedia all'hotel viene raccontato una parte del passato di Joker questo finale aperto che rimane un pochino così con quella barzelletta ragazzi ho già detto troppo per chi non avesse mai letto la storia ma io spero seriamente che tutti abbiate letto Batman The Killing Joke se non l'avete ancora letta è il momento ora di recuperarvela e quindi ragazzi io sono estremamente contento di chiudere il video con The Killing Joke forse una delle storie più chiacchierate ed apprezzate per quanto riguarda il rapporto tra Batman e Joker quindi ragazzi vi ho fatto vedere veramente una valanga di roba vi ho fatto vedere roba importantissima vi ho fatto vedere roba importantissima ma collegata al film di The Batman vi ho fatto vedere roba che potete tranquillamente recuperare online su Amazon su Panini vi lascio comunque tutti i link qui sotto in descrizione così avete anche un bel listone di tutti i fumetti che vi ho fatto vedere io spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere con un commento qui sotto fatemi sapere quali sono invece le vostre storie preferite di sempre su Batman se c'è anche qualcosa che non ho fatto vedere vi avrei anche fatto vedere il volume sulla corte dei gufi ma io l'avevo letto in spillati il volume è super esaurito la corte dei gufi mi era piaciuta un sacco ci sarebbe anche morti in famiglia dove muore inizialmente Jason Todd che poi lo ripescano lo ripescano più avanti tra l'altro morti in famiglia aveva quella storia che era avevano deciso di farlo morire con un sondaggio che avevano fatto i lettori ma magari poi ve ne parlerò in una live o in un video dedicato ragazzi mi raccomando fatemi sapere tutto con un commento qui sotto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao